Saremo assolutamente leali, coerenti, collaborativi, salute, lavoro e ritorno alla vita. Spero che con il nuovo governo finisca anche la stagione degli allarmismi su giornali e i telegiornali, noi proponiamo che la società scientifica fitta, si metta intorno a un tavolo, decida, numeri alla mano e poi in base ai numeri e alle decisioni comunichi. Non è possibile che sia qualcuno che si alza la mattina gettando nel panico milioni di italiani, parlando di morti, feriti, chiusure, senza che ne abbia discusso con altri. Questo era il metodo del passato governo. Su questo sicuramente ci sarà un cambio di marcia. Abbiamo totale fiducia nella voglia di ritorno alla vita del Presidente Draghi.